Aria di Repulisti in Casafoggia e a dirla tutta col ritorno di Mirko Cudini c'era da aspettarselo. Il club Brossonero è al lavoro per trovare un'intesa con Antonio Vacca, il centrocampista da ormai un paio di mesi ha virtualmente dismesso i panni di calciatore per affiancare Olivieri prima e Coletti poi nella guida della squadra. Ovvio che l'arrivo di Cudini cambia gli scenari con Vacca destinato a rescindere il suo accordo col club e a cercare spazio altrove. Le richieste non gli mancherebbero per concludere da qualche altra parte la sua carriera da calciatore prima di avviare quella di allenatore. Intanto si è sbloccata la situazione legata all'ex capitano Alessandro Garattoni. Il terzino è a tutti gli effetti un giocatore della Virtus Entella ed è già a disposizione del tecnico dei Liguri Fabio Gallo. Vacca ma non solo perché sul mercato potrebbero finire anche Schenetti e Dinoia. I due centrocampisti hanno entrambi il contratto in scadenza e in caso di offerte in questi ultimi giorni di mercato potrebbero fare le valigie e salutare. Ovvio che anche le prossime entrate saranno indirizzate da quelle che saranno le uscite. Di certo il Foggia è alla ricerca di un difensore centrale ma anche di un paio di terzini. Dovessero partire Dinoia e Schenetti bisognerà inoltre tornare sul mercato per trovare le alternative. Non a caso nelle ultime ore al Foggia è stato accostato un vecchio pallino di Cudini, il centrocampista Tencorang, 24 anni da compiere a maggio prossimo, attualmente all'Eccoma di proprietà della Cremonese e che Cudini ha avuto alle sue dipendenze al campo basso. Centrocampista bravo in entrambe le fasi, Tencorang è un prospetto che farebbe al caso del Foggia soprattutto nell'eventualità di partenze in mezzo al campo. Intanto squadra al lavoro in vista della trasferta di Francavilla dove Cudini sarà costretto alla tribuna per una vecchia squalifica da scontare in seguito all'espulsione rimediata nella gara col Potenza di dicembre scorso. La Lega ha intanto comunicato l'anticipo di due giorni della prossima sfida casalinga dei rossoneri. Foggia-Catania si giocherà venerdì 2 febbraio con inizio alle 20.45. La gara era inizialmente programmata per domenica 4.